Io e il mio bellissimo brufolo vi diamo il benvenuto in un nuovissimo video Praticamente appena finita la live e per due volte ho visto il fulmine cadere su fortnite E praticamente è successa una cosa che veramente sono rimasto a bocca aperta Tanto comunque ce l'avete detto al titolo quindi Mi raccomando un bel mi piace Cerchiamo di superare magari 7000 mi piace Magari quando ci sarà un altro evento del genere faccio la stessa cosa Ovvero che poi ve lo carico sul canale Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Perché vado in live tutte le mattine dalle 9 e mezza fino alle 11 e mezza 12 Quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina E buona visione Allora andiamo su dai andiamo qua Quindi qua è teoricamente Ma cosa deve succedere cadrà un fulmine Sì tra 6 minuti c'è il fulmine vai Ah ok non è in questa montagna No là è dove è dove dicitemelo Dicitemelo dove Non è lì Quale 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 montagna Quale questa Ehm no questa non ci sono i cactus Quale montagna è Questa Vicino al lago Ehm questa Questa E questa 1 2 3 4 Sì ok perfetto 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 ok Dai ragazzi sono curioso Ma C'è i fulmini che sono caduti Guardate Pensavo tipo fosse qualche ombra Qualche ombra di albero Ma no Questa cosa è tipo tutti Così caduti Tutti i fulmini Avete visto Mi raccomando però Un bel mi piace La live Mi raccomando siamo in 4000 Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E attivate la campanellina Anche perché siamo quasi a 172 2000 iscritti Dai distruggiamo i cactus Distruggiamo tutto Che voglio vedere per bene io Voglio vedere per bene Dobbiamo preparare Anzi sapete che vi dico Questa cosa si vorrò rompere Sì rompiamolo Vai rompiamolo Rompiamo pure questo qui Allora Ci facciamo tipo Tutto il legno Ok Ci facciamo una cosa del genere Magari pure un po' più in alto Che dite Vai ci facciamo pure un po' più in alto Ok Vai Ci facciamo tipo una bella piattaforma Ma io vado e il fulmine cade Su una di queste cose qui Di questa piattaforma qui La rompe Ma può essere Tutto è possibile Perché no Ok E magari qui Ci facciamo una cosa simile Ma ragazzi Ci dobbiamo preparare per bene No perché sennò Non lo facciamo proprio Vai tutta questa cosa qui Che poi magari veramente Durerà due secondi Io lo so Ok Ok Perfetto Ci sono 31 Dai abbiamo ancora 4 minuti di tempo Certi dicono è 34 Certi dicono è 35 Io per sicurezza Mi rimango qui Perfetto Allora Questo qui fatto Cazzo mille Metan Viralam La riscrizione Allora dov'è che c'è qui Quindi dovrebbe otterrare Da questa parte Così a cazzo di cane Mi andavo di farlo Anche io sono a parco giochi Ma magari ci rimaniamo malissimo Che non si può vedere a parco giochi Sì Ah che ne sono 32 Mancano due minuti Fammi una torre in mezzo E balla Vai Facciamoci una torre Facciamoci una torre Anche perché poi Sono curioso di vederla A sto punto Tan 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 Anche anche forse più in alto vado Meglio è no Meglio lo vedo O no Ecco guarda Rimaniamo qui Dov'è il fulmine Lì sopra Vai Ma sapete che vi dico Per vederlo meglio ragazzi Facciamo così Facciamo interfaccia Togliamo tutto No Facciamo tutto No Guardate Guardate Olè Olè Signori Vai signori Sto da carico Un bel mi piace Mi raccomando Siamo quasi da 4000 E adesso Se non ti iscrivi al canale Sei una brutta Mi concella Il rumore è ambiguo Dai su Dai su Eccolo Ma Quale cazzo era il posto Qual era il posto Era di sopra il posto Ragazzi dove cavolo era il posto Era qui il posto Qui Era qui il posto Andiamo a vedere Ma me l'ha distrutto C'è ma benedito Mi ha distrutto Tutta la piattaforma No 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 Mi vedono Ah praticamente a me Vedete Scusate Pronto Ah ok Devo andare un po' più avanti Eccolo la Ok Saliamo Come si toglie sta cosa qui Ok si è tolto Ok eccolo qua No ragazzi è una cosa fighissima Torniamo ancora indietro Lo voglio rivedere Lo voglio rivedere Guardate Guardate So lì sta cosa che c'è la miniatura No Veloce che c'è la miniatura Mannaggia tu sorella Allora 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 Ragazzi è bellissimo Ragazzi è bellissimo Ragazzi è serenamente bello 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 Voglio le rivedere l'ultima volta giuro poi non mi do un po' più le palle Ok vediamo un po' eh Vediamolo del tutto Mamma ragazzi Ok ci prendiamo allora adesso le cose in ferro E non facciamo proprio la stessa cosa Facciamo tipo una Che cavolo si chiama Non una struttura simile più o meno diversa Allora facciamo adesso Allora Ci facciamo una tutta così Ok Tutta in ferro Ce la facciamo diversamente Cioè adesso ce la facciamo a terra ok Tipo una cosa simile Sempre però la stessa cosa qui Cioè tipo una cosa del genere Ok Ok Una cosa così Perché se mi uccide pure se sono così Perché prima sono morto col danno a ragaduta Cioè per colpa del fulmine che Ci ha Ci ha praticamente fatto cadere Che ha rotto la struttura Però adesso Voglio vedere Ok Qui Vorrei farmi una cosa Più o meno alta Cioè giusto di due blocchi Non di che Ok questa volta l'abbiamo fatto a terra Vediamo se il fulmine distruggerà Anche il ferro Perché può essere che il fulmine Cade proprio lì Capite? E prima del fulmine Riusciamo a raggiungere 172.000 Dai che forse ce la facciamo Dai pure mi raccomando Mi piace Non vi scordate Ok C'è stato 2.000 iscritti C'è stato 2.000 iscritti E dai E fallo Grazie mille Andrex01 Eccolo Mi ha fatto volare stavolta Questa volta mi ha fatto volare però Cioè non mi ha Cioè Mi ha ucciso Ma in un modo Differente Perché la struttura me l'ha rotta A metà Metà me l'ha rotta Guardate perché la struttura Io non l'ho fatta In alto Io l'ho fatta a bassa Però a quanto pare Mi ha fatto volare Senti ma come cavolo Oh pronto Scusate ragazzi Ma il drone è qua Il drone è libero Dov'è? Eccolo qua Il drone è libero Oh va là Ok Eccolo qui Ci siamo eh Ci siamo Vediamo un po' No perché io qua Sono veramente curioso Eccolo Si vedete Mi ha fatto praticamente Rimbalzare Mi ha fatto praticamente Rimbalzare Aspetta Rivediamolo Rivediamolo Ok Si perché qui c'è la light drop Me lo ricordo Guardate Guardate Ora qui arriva il fulmine Un po' più lontano Un po' più lontano Ok Guardate ragazzi eh Guardate Guardate E poi io sono caduto Da quella parte Un po' più lontano 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 Grazie a tutti Grazie a tutti